ok vai vai nelle palle si nelle palle vai nel posto della dell'oblio vai bastardo insieme diversi fra fader grego insieme ai fader gregory se guarda sei due fader gregory mi parlano addosso zitti no sembrava che si volessero parlare ma poi no poi hanno cambiato vabbè basta mi sa che fader gregory ha chiesto aiuto a fader gregory dove parto e ma mi spermi perché ho paura che parlano basta allora zitti devo iniziare sto video ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati su garris mod il nostro amatissimo ma li parla fader gregory fader gregory devi stare zitto cioè gli occhi sembri un tossicodipendente un attimo zitto non ti sto chiedendo molto allora siamo qui di nuovo sul garris mod con una modalità fantastica per voi ragazzi per porco il cazzo fader gregory non puoi devi fare silenzio ti sto chiedendo un minuto della sua vita zitto poi uno è ferito male curatevi no oh allora quindi noi siamo qua vi chiedo subito di lasciare una valanga di pollici in su per quest'altra modalità che abbiamo inventato arriviamo a 2000 per la prossima su gmod hanno parlato ancora beh vuole che lasciate un pollice in su lasciate un pollice in su a fader gregory quello ferito ok quindi che cosa abbiamo organizzato per questa volta abbiamo una mappa dove ci stanno miriadi di attrezzi di tortura miriadi ghigliottine pestaculi tripella quello un pesta culo questo qua famosissimo un pesta culo si si oh hanno anche rotto il cazzo però eh fammi prendere un'arma si girano guarda lì lion fai attenzione c'è un elicotterino insieme quasi si è bravo fader gregory tu hai perso ma non muore pariamo due elicotterini contemporaneamente aspetta fermo fermo un primo piano del muso di fader gregory guardagli l'occhio scherzo è stato disfantissimo perchè ci ha sparato in faccia ha fatto aspe aspe fermo fermo mo io gli sparo anche l'altro occhio vediamo se c'acchiappa ancora eh vai vai fai spauna l'elicotterino no non c'acchiappa più concent barato Spera, magari se ce lo mettiamo davanti No, non ce la fa Lui mira, ma non vede un cazzo L'altro è molto più pronto, vabbè Ok, fatemi andare avanti, per favore Allora A questo punto, che cosa dobbiamo... Lasciami il frader No Stefano Ma quello è cattivo, quello è morto ormai No Abbiamo tutta questa caterva di attrezzi, ragazzi Che dovremmo provare E li proveremo con le varie ragdoll che abbiamo qui a disposizione Tra cui le ragazze di Equestria My Little Pony Con le quali prima io e Stefano stavamo Intrattenendo una conversazione interessante E piazzandole in pose Diciamo un po' aperte Via Ok, frader Gregory Eh, non devi guardare queste cose Ti fa male, ma non muoriono mai No Ok, hanno rotto il cazzo Ci penso io, ragazzi Ci penso io Me ne occupo io di frader Gregoris Ma è frader Gregory Tiè Fammi pure l'altro, Mario Piazzalo Io premo il botton E questa si chiamerà la... Piallattrice 2000 Ciao frader Gregory Noo L'altro, l'altro Oh mio Dio Oh mio Dio Che morto orribile Oh, guarda Eh, lo vedi? C'è un panino Eh? Buono, no? Vai No, 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 no Ha perso i piedi Che puttanata Ha perso i piedi ancora Sì Sì Ma che cazzo di problemi ha le caviglie Sono gravi Proviamo anche questa Mario Quale? È il tuo turno Aspetta che ti piazzo qualcosa di gustoso Wow, un ovetto Kinder Mario La sorpresa Mario Vai Ma l'ho detto Kinder da solo? Che cazzo fa se lo schiacciamo? Niente, è rotolato via Ah Aspetta Eccolo E qui Mario No Molla Food Food Oh il food Mi è cemento Eh, il food Madonna il food Tiè Anna Torta Oh, torta Oh Ciao Anna Eh, niente di che Così Perché è morta? Oh mio Dio Ah, perché ti schiaccia No Ah 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 Aiuto Aiuto Sono morto insieme ai piedi di Stefano Tipo Stefano Mettiti come Oh mio Dio Oh Cristo Mario Ti è disintegrato Mario, dove cazzo sei? Lo voglio fare anche io Eh, aspetta Guardalo Sparisce proprio Puri io Puri No Mario Ok, pronto? Sì Ah Guarda come Come sono morto bene Fighissimo In una posa così bella Fermi Stop Mario o Stefano Mettetevi la skin da Freddy O da qualcuno del genere Eh, ok Metterò la skin da Foxy Ok, vai Mettiti bene No, va bene Bravo Mettetevi una fianca all'altro Ecco Fate 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 le vostre cose Fate le vostre cose erotiche Tiè Bastanti Mi sta bene Morite Maledetti animatronics Anna mettiti come cica Cica deve soffrire Madonna L'audio Ok L'audio quella cica di merda Ecco mi sono Aspetta Devo pure spararci Vai Mettiti nella posizione Mettiti Eh Che cosa hai come ultime parole Che cosa devi dire Aia Eh come ultime parole Aia Come Muori Pollo di merda Questo No Frederick Gregory Un attimo Vabbè Io parto Oh Cristo Ah Lug Troppi Frederick Gregory Troppi Frederick Gregory Zeta Levate tutti Frederick Oh mio dio Guarda là Li sta frullando Ci sono i loro fucili Memento Della loro scomparsa Guarda che casino Mio dio Frederick Gregory Poveri Frederick Gregory Oh Adia Oh mio Addio 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 Vabbè oramai Siamo cadete dalle scale Aia Ci stanno le spine No Aiuto Aiuto Stefano Ma Frederick Gregory C'era lì E io Come risalgo Aiuto Anna Anna Che cosa c'è qua giù Non lo so Ci sono delle spine Non riesco più a salire Vieni un Frederick Grazie Ma fa culo Frederick Va bene ho clip Ho capito No Ti stavo mandato Frederick Eh mi sarà stato molto Venite questa è la migliore La migliore Allora io ci metterei dentro Scusa signorina Abbiamo le signorine di equestria Infatti Levati Mario Tutte Fermo Ok Tutte no Due Così si fanno compagnia nel momento della sofferenza Mario interpreterà una delle due E io interpreterò l'altra Tre Due Oh no Carmela Che cosa ci succederà No Su Sariana Oh mio dio Oh stiamo venendo affettate Oh Carmela Ha una sega Su Sariana Di breve Fermo Mario Carmela Sei bugata No Ma aspetta L'ho sposto No Ma Carmela Mi stanno schiacciando Carmela Ho vedo dei punzoni Ok Oh no Carmela Su Sariana Eh mio caro Carmela è uscita E sto arrivando anche Su Sariana Ecco Carmela è finita nel buco Cosa c'era nel buco Oh mio dio Le fiamme dell'inferno Beh è giusto che le ragazze di My Little Pony Vadano a finire lì Mi sembra molto ragione Dov'è Carmela E si è di nuovo incastrata Carmela Porco il cal Culo grasso Carmela Non dovete tirare le parti della macchina Non so Fusi Carmela Vai Carmela Nelle fiamme dell'inferno Si è grappata Oh ce l'ho Ce l'ho Eccolo Questo bastardo qua Che ci rompe tanto il cazzo Su Failcraft Sulla serie di Minecraft Molta aggiustiamo noi La fermate Vi fermate Eh ci stava Brin Che bugava Eh Mario non riesco a posizionare È troppo grosso Perché c'ha la testa grossa Vedi Aspetta Lo sai che pagheremo Per questo vero Possiamo Aspetta Dovrebbe passarci Fermo Mario Mario no Eh Ci possiamo far passare No c'era C'era Cristo Ti ha spostato il secchio E non fa niente Eccolo Eccolo C'è la testa Sì sì Aspetta Vai Ok No fermo Bastardo Ok C'è Più o meno Aspetta lo tiro appena appena Mario tu tira la leva Ok Vai Vai Nelle palle Sì Nelle palle Vai nel pozzo Dell'oblio Vai Bastardo Insieme ai diversi Fra Father Gregory Insieme ai Father Gregory E a Mario Mario buttati Nap Però è un peccato Che non si possono trascinare Le persone Oh Abbiamo da provare Dell'altro Questo l'abbiamo provato Questo no Da catapulta All'inghiro Ok mettiamoci in questa qua Mettiamoci delle cose piccole Tipo Un maiale Tanti maiali No tanti no Poi grassa Maiale Dei piccioni Piccione Oh oh Ho esagerato coi piccioni No È un villager Ok è pieno di piccioni Ma basta Solo piccioni 3 2 1 Guarda una frittata di piccioni Che schifo Guarda lì Oh mio Dio Poverini Polpettone di piccioni No Mario Una frittata di piccioni esterno È che l'aveva Il schifo fa adesso Ok Ah signor frader Gregory Che cosa ha da dire Per i peccati Che le sono stati affibbiati Di aver sparato A una ragazzina Dopo averla leccata Nell'intimo Che schifo E lui spara A morte Hai visto che ha fatto Ammazzato l'Erikot È che A morte De la verità Di mio Dio Mamma mia Questo l'abbiamo già provato No Non abbiamo provato Questa struttura Chi manca Che non ha ancora subito La nostra ira Eh Harry Potter Questo lo vedete chi è No Ok Harry Potter Mettiti sotto Abbiamo qualcun altro Da Harry Potter 9 Hermione No non mi risulta Non c'è Hermione No Vabbè allora Harry Potter Lo metteremo insieme a Aspetta eh A tizio di Matrix No Insieme Levati Mario Insieme a un Silverfish No perché In testa il Silverfish Oh Ma è così carino Signor Potter Lei è colpevole Di aver Violentato Hagrid Che Vi pensavate Hermione No Hagrid Quindi Che Come si professa Ah vada che davvero Ecco Ma morte Buzzuio Eh tegame Amici Amici Eh Venì Guardate che cosa ho preparato Qui per voi Allora Ci sta il cavolfiore Il broccolo Di digi La verza Io guardo i panini C'è proprio i panini Questo Questa bibita Molto buona Che si chiama Pulox Ma questa è Candeggina E' candeggina E' buona Molto buona Se voi rimanete lì E vi mangiate tutto Io Adesso Io non vi faccio Fammi ci ripassare Che non si sa mai No Sono fatto con le gambe all'indietro Morire Il cavolfiore l'hai strizzato Fino allo spaule Che cazzo è questo pulsante Oh C'è un pulsante Non lo so Premi Non succede Oh è tornato indietro il carrello della morte Ah ecco che serviva Ok Abbiamo un altro paio di attrazioni da vedere Venitemi appresso La catapulta La catapulta Come una catapulta Pugno Allora come si usa questa Chiudi Stefano Chiudi Come chiudi Stefano Chiudi Vai Oddio Abbiamo massacrato anche qua Il frader Gregory Col camice bianco Wow Rifacciamolo Aspetta devo fare una cosa No No Stefano Che perde i piedi Fa morire dal ridere Vai Mario Tu prendi quando te lo dico io Nonno clippare Però Eh se ti bughi Non No Dove devi saltare da qua Devi saltare da qua Ma io sono scatti In questo gioco Salt e control Te lo abbasso Salt e control Bravo Ok 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 Entra Vai nel fondo Mario Tu quando io ti dico Premi il pulsante Aio Io so che non stanno Non stanno Restando No Mario premi il pulsante E' muto E' muto No Fortanna Madonna ma questi sono attaccati al muro Perché Li stavo attaccati al muro Lol Zaccagniamoli Zaccagniamoli Che ragazzi a quanto pare la catapulta fa crashare il gioco Quindi per questa volta direi che tutto abbiamo giocato abbastanza Se vi è piaciuto il video mi raccomando ricordate di lasciare un bel pollice su un commento Per questa volta è tutto Suggeriteci mappe se ne avete belle digimod E Lion, Stefano, Mario e Anna Out Out